Ragazzi, molto felice di fare i nostri sposi! Fantastici! La 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 la! Quanto sono belli i nostri sposi! Direttamente dal Mastro a Messico con i cappellini a Guayani! Insieme! Com'è, com'è? Fussi in pista, raga, mamma! Ma è bellissimo questo primo! Ciao, ciao! Adesso... Fussi insieme! Com'è? Fussi insieme! Oh lì lì! Allora, il piede? Qua c'è la bele! Qua c'è la tocca! Oh lì lì! Qua c'è la bele! E! Qua c'è la bele! Qua c'è la bele! Qua c'è la bele! Qua c'è la bele! Qua c'è la bele!